Ah beh si fai conto che chi ha morto la Lega ha fatto 8-900 punti eh Le persone che sono morte la Lega Prima CJ è morto la Lega ha fatto 900 punti morendo alla Lega per cui Ah è la prima run di oggi Valentino quindi l'uovo meteo ancora non l'ho Ma penso che ce l'ho nel lab Ma godo bro io sono contento di sto Gengar Ha subito un po' di paralisi che siamo andati avanti con quella quest lì Ho trovato un paio di rare candy ha fatti 6 punti Nel senso Cioè CJ che è morto la Lega ha fatto 790 punti 745 anzi Non ho mai regalato fiore a una ragazza Allora Io non ho le uova meteo Mi arrivano dopo L'uovo è buio Dark È morto alla Sylph Ci sta ragazzi di confrontarsi dai Non siate tossici però Il posto l'avevo per più di nuovo Frank mi sa Perché è libero sto slot per dire Io ne potrei tossare alcuni però di questi Si tossano dalla web app no però le uova March è vero Si tossano dalla web app le uova March giusto Usale però bro ne puoi usare una run Eh non ne uso una run di queste La potrei usare qua una in realtà No non voglio usare le uova leggendarie le lascio lì bro Le uova leggendarie le lascio lì al momento Non ci voglio usare le uova Oh è shiny arbitro Oh kingler shiny arbitro Cos'è sto kingler è pazzo È pazzo È pazzo Kingler shiny arbitro Oh Ma è color vomito di Okan questo Ah lo shiny Ma come per cosa vuol dire che lo shiny al 30 Oh Rosary può farla quest Devo ancora fare quella quest lì Abbiamo un botto di roba in ballo A livello di quest da fare ancora Madonna Vabbè li stai andando su altri discorsi Però anche per me la meritocrazia è un discorso Cioè Il fatto che Uno nella sua vita non possa essere ricco O altro solo perché c'è gente che sta male È veramente stupido come discorso secondo me Perché magari quella persona lì Si è fatto un culo della madonna Mentre Uno che tu chiami Non è sempre così Però magari uno che tu chiami povero E uno che non ha neanche mai provato a fare Mentre l'altro si è messo molto più in gioco Quindi Scusami È giusto che venga anche riguardato Cioè Non mi sembra assurda come pensiero Stai scherzando vero? Cos'è sta roba? Stai scherzando? Ho letto dei commenti in chat 6 strike fa danno sulla fisica Molto bene Molto bene Molto bene Sare qui Tander cosa ti è successo Che stai spittando Fax Fax Non riesco neanche a parlare Da tutte le parti Male male Muoi da questo Invece no Vediamo se fa Sto pokemon qui Questo Oh bro Cioè Mizzega Becco solo pokemon Che resistono Io me la vivo molto Che chi ha tanto Bella per lui Cioè Vuol dire che se ne è meritato Probabilmente più di Più di me In questo caso Perché parlo io Stop Cioè Bella per lui Zio E devi erosicare ogni volta Cioè Poi in Italia Secondo me c'è molto Anche il fattore Rosic Cioè Più che in altri paesi Rosic Vabbè Detto così no Cioè L'essere invidiosi In Italia è molto più presente Che in altri paesi Vabbè mmmm è pazzo sto metting godo l'allamberry oh dark void arbitra è una mina su questo porca troia mago mago non dovrebbe confondere vero perché è natura neutra quindi nulla dovrebbe confondere ecco frickler si si ho letto barney vabbè barney barney ormai stiamo giga livellati minchia frate barney è venuto qualche volta su discord in chiamata nella trasmissione a grosse richieste nel pubblico il migliore pr di milano il barnianzo porco dio spero frate adesso non lo so vabbè forse devo attaccare subito di napoli ho detto milano mi sto sbagliato in casa devo fare ah c'ho dry skin quindi mi ridà vita la la roba eh l'espion di creepy è fortissimo fortissimo visto si è morto poco fa ganger ma dry skin che mi ridà pazzia bro dry skin qui eh non c'ho pozze buone da dare oh beh secondo me lo potrebbe provare a fare il brock questo eh sto matto giù uno dark void maybe merda bro quanto cazzo mi leva ok 25 25 6 strike io andrei di 6 strike super f ed out of brock del metang mazzo sto metang out of brock del metang cazzo addirittura siamo talmente esotici arbitro out of brock del metang back to back al ganger oh siamo caldi state attenti eh che sono a pochi try state attenti cazzo perché ci siamo eh si è lì eh state attenti cazzo out of brock del metang è pazzo questo eh paparazzi ma cos'è sto cazzo di remix di merda che c'è non ci arriva il 46 se ci arriva ne devi giftare 10 però facciamo sta roba se ti va facciamo sta challenge se ci arriva ne gift i 10 vediamo siccome lo dici con questa prepotenza il fatto che non ci arrivi Bruno Mars lo sono stato a vedere 8 anni fa Pippolo però non dovevi bettare contro brock eh cioè con quel 2 di fianco alla betta vuol dire che viravi contro di me non è bellissimo da parte tua vero sono stato a vedere il concerto l'Unipol Arena è andato con la mia migliore amica ci ero andato ai tempi era il 2018 17 bro quando ancora si era giovani arbitro quando ancora si era giovani 18 anni poi Budi mi insegna a gufarti sempre è un bastardone Budi prossima settimana però qualche cop ce la facciamo ma io posso anche interrompere l'evoluzione di questa quanto arbitro questo è pazzo long 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 domenica si potrebbe anche fare non faccio la bett qui perché è troppo easy il world boss per sto mon cioè sarebbe perdere tempo a fare la bett qui faccio il world boss senza neanche perdere un HP con questo no un HP lo perdo perché ho missato purtroppo un 80 accuracy in una casa c'è Paul in chat assurdo incroyable mon frere con la paglia Eruption a posto bro togliamo scagliatta che stia nel cilio Eruption Dark Void Psy Strike diventa Espen Full Speciale si va a vincere la Lega non è difficile non lo addormento neanche tanto lo shot overconfidence arbitro lascia fare con la paglia te l'ho detto non faccio neanche la bett perché era troppo facile il world boss per questo pokemon per un pokemon di questa entità non posso perdere tempo a fare la bett cioè questa qua la bett la fa da telepath non so se hai capito prima non fa bett questo mi sto proprio divertendo su questa caiz ma si vede perché poi gioco anche più attento hanno fatto un bel lavoro i ragazzi bene bene dai vediamo lascia cucinare il pokemon qui non mi date robe assurde contro però per favore perché incredibile siamo scomodi con questo mon sì ma perché il metteng non lo vogliono vedere bro è troppo atipico Full Restore ho 600% di cure si va alla Lega state attenti eh state attenti perché si va alla Lega con questo eh poi la giochi molto clean fra è proprio un piacere vedere i tuoi tre mi va andato del bollito sulla caizo mi va andato del bollito no 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 arbitro qua ci si casa si lotta si lotta ma cosa mi shottano frate non mi levano neanche metà vita la bet per la palestra sarà faccio la pale perdendo più di 30 HP sì o no non sarà se farò la palestra la bet sarà perderò più di 30 HP alla palestra questa sarà la bet per questo pokemon per questa entità sì ho capito ma preferivo averle prima con Gengar che era la Sylph ste cure che ne ho trovate due in tutta la run cioè mo adesso parte a fare fare un po' i coglioni ok cioè il discorso di questo è che se quando si evolve randomizza male è una merda cioè avere tutte ste cure qua ti roda anche il culo poi perché le sprechi beh la mass mass senza sub però fa male se posso mass senza sub fa male il patrattio vai facciamo il full clear qui altri punti forse questo lo devo dar qui dare no arbitro sono morto sono morto no che c'ho dry skin sono morto sono morto perché ora lui mi fa la mosso a fuoco sono morto assurdo morire così è assurdo cioè questo è poli di merda che è venuto in chat arbitro cioè un turno di dormita si è fatto questo no non è dai senti non è possibile che muoia qua però eh cazzo almeno fatemi revolvere arbitro incredibile che ha l'ac ma veramente peccato Salamence che dura un turno solo devo usare un energy root perché la super deve non far fell in burst magari cambia mossa provo un altro se fu se fu se fu è pazzo in francese cazzo se fu è pazzo in francese arbitro in tai dai cazzo lotta 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 se fu lotta cazzo vaffanculo era già andato in chat da Waze e compagno a scrivergli è morto il metang del thunderons il cazzo ha lottato non faccio la bet per la palle perché la fa in ciabatte basta doggiare il salamence si tira dritto si tira dritto vaffanculo ma come fanno essere tutti più veloci ma vai che non sono velocissimo però minchia questo diventa crescelia anche se non può ha scolato le pre strano non succede mai prossima settimana faremo una cop con Ale mi sa cazzo non devo usare Psy Strike però mannaggia Dios vecchio fuck non devo usare Psy Strike vero secondo me mmm Arbitro lotta 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 combatti laia papa confonde chat siamo docile no non dovrebbe confondere nulla confonde laia papa non dovrebbe confondere no confonde arbitro si confonde malissimo qui merda mannaggia sono talmente confident che gli ho dato la mia papona ma vaffanculo cazzo però opla via ci stanno sabotando arbitri ci stanno provando everywhere non ho i bp per finire la palestra mannaggia la madonna ok lasciatemi cucinare per favore ok 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 con la paglia la palestra con la paglia cazzo con la paglia così diventa espon full speciale che va la lega dopo voglio chiedersi parlateli if you talk then si arriva al 45 barney gifton e uno arriva al 45 ora psi strike buono psi strike oh pardompeti cazzo questo cappone porco dio sfrate o tolgo dark void secondo me devo insegnare fisica che miss troppo forte shadow force cioè più che altro il discorso è che se dopo si evolve che è fisico io non ho nessuna fisica non ho neanche la chance di giocarlo e soprattutto da ulteriore coverage secondo me ci sta cioè se evolve più che altro è utile perché se il pokemon in cui evolve fisico serve quindi secondo me la devi insegnare lì necessariamente cioè giusto in ottica evo cioè nel senso se questa run va avanti il pokemon si evolve al 100% quindi non ragionare in quell'ottica non ha senso perché eh c'è mister money è crashato cazzo è questo barney se mi prova a tirare un calcio che cade per terra quanto è rincoglionito porco dio ah 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 scritto da lui in terza persona follia siamo pazzi sei pazzo barmi si questo qua non la puoi bloccarla bianco in caps time out di nuovo molto easy però la cosa molto easy la cosa time out again scrive in caps ovviamente ci sta mi dispiace mi dispiace mi dispiace mi dispiace mi dispiace la telepatta Dallas Gianco con il secondo account che scrive non in caps ma lo stesso messaggio time out anche a quello dieci minuti anche per il secondo account ho gatto dal telefono sei incontenibile eh si Dallas purtroppo si però che palle non avere una super elf su di lui il pokemon preferito di Renga tranquillo tranquillo non 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 Perché è stupido lo banno Porco dios Non scrive una roba sensata da mai E spam meincaps Che gli ho detto che non lo deve fare Tra un po' fai la stessa fine peladino Dopo ti ritrovi a parlare in privato con Renga La telepath E' pazzo fa anche il full clear Anche full clear Nice Metangalo Viva il metang Viva il metang Put the gate on me Che pezzo questo Minchia sto pezzo qua I swear mi carica troppo Da sempre Non è tanto conosciuto E' un po' fai la stessa fine E' un po' fai la stessa fine They on me Put the gate on me If on me Non faccio le bet Non c'ho voglia Ah una mossa che ha già imparato Impara Va bene dai Eh sì 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 Ci sta Tutto normale Bella Perchè ho fatto Cazzo non volevo fare Psystrike a quello bro Non volevo fare Psystrike Swear Cazzo di Buddha Porco Dios Mentalità capoca Ah mi sa che mi devo curare Cos'è che ha fatto? Che cosa ha fatto lui regà? Che mossa ha fatto lui? Ha fatto Cosmic Power Dai bro Che più veloce mi ha rifatto Underwave Non devo curare al primo dopo Non devo curare al primo dopo C'è la madonna Arbitro c'ho 0 di difesa Non mi interessa Shot tutti Non me ne frega un cazzo Non prendo attacchi fisici staranno Fottetevi Plin 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 Arbitro c'è sta roba Godo il crit Oh dry skin Mi ridà vita Arbitro Dry skin Plin 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 P18 P18 Waze E' Crederci Non mi ne frega un cazzo Mmmmm ... ... ... ... ... devo curarmi sono lento non c'è neanche le mosse merda questo come cazzo lo tira giù frate non c'è pipì devo andare di scontro vero non ci credo che devo muoio perchè devo andare di scontro stai scherzando vero muoio perchè devo andare di scontro non ci sto a credere cosa c'entra perchè hai curato coglione che cazzo cambia attaccavo comunque dopo lì la cura wazer di merda ma poi waze avrà il doppio d3 con gli stessi punti probabilmente a fare il professore dagli altri guardasse lui ha buff in entrambe le difese sia fisica che speciale ah ho capito bro ma secondo me hai capito non cambia un cazzo x attack non cambia assolutamente un cazzo x attack ah ho capito bro ma ero parrato capisci che ero comunque parrato quindi c'è caso che l'attacco non lasse a segno e attaccavo sempre ogni turno avevo il rischio di missarla devi crittare può non lo so neanche se può crittare non c'ho io cura vero cioè non cura intendo pp ho capito bro ma lui mi toglie vita non è che non fa nulla mi toglie 50 botta cioè non non ce la fa questo evolversi posso provare la cura qua a curarmi qua manetta ma non puoi insegnare a riken durante la la lotta poi nel senso non insegneresti mai o mi curo provo le pozze no devo sperare che lui cambi mossa però se lui rifà la stessa non ce la faccio mai io mi curo così ogni turno un minimo con le pozze si un minimo si ma se lui rifasciato sneak che cura ho scusa perché mi dici che ho cura ah la oran si ma posso provare la oran magari lui si ha mossa ma a bro ma cosa cambia c'è più il danno che prendo di quanto mi curo Davide il discorso è quello posso anche tirare le ball ma è più danno che lui mi fa di shadow sneak e shadow sneak c'ha 30 pp del danno cioè del cosa che io io attacco e muoio di raccoglio sempre qui cioè capisci no qual è il discorso ho capito sirfetch ma se anche io crito muoio capito perché muoio di recoil cioè o lui o lui cambia mossa e tipo si blocca su cosmic power e allora ce la fai non andava fatto subito x attack assolutamente no perché tu non sai che mosse usi contro che pokemon avevo la difesa 26 contro ogni pokemon e non posso perdere il turno con x attack perché se mi fanno un fisico mi steccano vabbè ma waze cosa gliela sto a spiegare bro c'è avrà il doppio dei trai con la metà dei punti zio che fa fare il professore da tutti poi butta i pokemon per cui non ce n'è anche a spiegarlo cosa cambia se faccio x attack ma sei stupido o cosa cosa cambia se faccio x attack contro seeking con scontro che gli faccio due danni al posto di uno dopo che hai visto il danno di scontro l'ho visto due turni fa il danno di scontro che l'ho messo così cioè non è che l'ho visto tre pokemon fa zio l'ho visto due turni fa il danno di scontro cioè capisci che gli levavo due al posto di uno non cambia un cazzo cioè non capisco veramente certe volte leggo dei commenti che letteralmente ho preso due turni di danno di scontro qua cioè due turni di danno di scontro perché ho attaccato due volte con scontro io o tre forse al massimo il resto mi son curato che ero già morto se non tiravo le cure cioè anzi sai cosa facciamo tiriamo un bel ex attack così facciamo vedere quanto più danno avremmo fatto dai se non muoio prima mi sa che muoio prima vero no non muoio prima un sacco di danni in più ho fatto due al posto di uno oh sarei uscito zio sarei uscito non muoio prima die che Grazie a tutti.